In queste ultime partite sicuramente si è rallentato il passo dal punto di vista dei punti, però io penso che le prestazioni ci sono state. Probabilmente qualche episodio non sta girando dalla nostra parte e dobbiamo essere ancora più bravi a sopperire a questa cosa qui. Non è assolutamente in base alle mie partite, anzi io penso che siano state fatte delle ottime prestazioni e dobbiamo solo continuare a lavorare per migliorarci e per limare gli errori che stiamo commettendo. Sicuramente c'è un po' meno brillantezza, ma penso che all'interno di un campionato ci sono dei momenti e questo è il momento in cui dobbiamo sopperire a questi momenti, a queste disattenzioni che ci portano a compromettere delle partite. Dobbiamo cercare di andare avanti, dare una piccola svolta e tornare sul nostro cammino. Mi piacerebbe tornare al gol più che altro per aiutare la squadra e per determinare un po' le partite, quello sicuramente sì. In questo momento le occasioni stanno venendo un po' meno e probabilmente anche per alcune difficoltà che stiamo avendo nelle ultime partite, però sono fiducioso che le occasioni arriveranno per me e anche per i miei compagni e porteremo la vittoria nel prima possibile. La mia volontà è chiaramente quella di restare a terra, non mi piacerebbe molto, però ancora non si è parlato di nulla. Penso che ci siano state alcune difficoltà, ma sono sereno, non ho la mia preoccupazione, io cerco di dare il massimo. Poi queste sono cose che al momento opportuno si valuteranno. No, io posso solo dire che la mia priorità è quella di rimanere qui perché secondo me ci possiamo divertire, c'è un progetto che a me piace. Insomma, lo sapete, ero andato via, sono tornato, quindi io qui diciamo che sono quasi di casa, ecco. Quindi non avrei alcun motivo per decidere di andare via. Poi è chiaro che i matrimoni si fanno in due e bisogna mettersi ad un tavolo e valutare un po' la situazione, ecco. Quindi valuteremo al momento in cui ci saranno dei colloqui e poi si deciderà, ecco. Io non posso dire altro, ecco. Non dipende solo da me. Ciao.